Il città di Tormina viaggia alla volta di Mazzarrone per la settima giornata del campionato di eccellenza e Biancazzurri vanno alla ricerca del primo successo esterno di questa stagione dopo aver subito una settimana fa a Siracusa la prima sconfitta di questo campionato. Mister Coppa si affida a Cernigliaro, Viscuso, Godino, D'Amico, Giorgetti, Trovato, Biondi, Ferraù, Cannavo, Lucarelli e Famà. In panchina ci sono Castrianni, Pantano, Caltabiano, Assenzio, Quintoni, Biondo, Di Natale, Lemura e Freni, Mazzarrone di Mister, Samuele Costanzo in campo con Fagone, Dieme, Bellomo, Sene, Puglisi, Campanella, Gravina, Tomarchio, Lorenzoni, Lamarana, Lo Giudice. In panchina ci sono Criscione, Gazzè, Ropai, Buscetta, De Pasquale, Gomez, Signate, Barbaro e Tomasco. Arbitra l'incontro il signor Fabio Caruso della sezione di Palermo. Ma prova a spezzare l'equilibrio di questo primo tempo, la palla dentro si fionda a Biondi con il sinistro, la palla sfiore, il palo termina di un soffio sul fondo, Città di Dormina vicino al vantaggio. Ferraù la mette dentro, la palla sbuca verso Giorgetti che forse neanche si accorge dell'arrivo del pallone. Biondi la porta, si è allargato, Cannavoa a sinistra, Biondi trova una bella traccia centrale, Fama manca di un soffio l'appuntamento col pallone. Ora Biondi il tocco dentro, c'è Fama che carica il destro dal limite, la palla sfiora la traversa. Puglisi esce bene, palla al piede, trasforma subito l'azione in offensiva, una gran palla in verticale, Lorenzoni se la porta avanti, Lorenzoni Cernigliaro gli sbarra la strada e poi la blocca in due tempi. Grande intervento di Umberto Cernigliaro, Fama la gestisce sull'out, è una gran palla pesta dentro, il Città di Dormina in vantaggio. Ha segnato Andrea D'Amico con uno stacco di testa da attaccante vero e il secondo gol in campionato per D'Amico, l'abbraccio con tutta la panchina. Lancia in profondità, cade Giorgetti, attenzione provo ad approfittarne Gravina, sveglio Cernigliaro, poi Godino libera in calcio d'angolo. Il contrasto favorisce Barbaro che apre di prima intenzione verso lo giudice, può puntare lo giudice, salta l'iscuso che prova ad affondare il tagger, lo giudice la mette all'indietro, sbuca Gravina, il Mazzarrone ha pareggiato. Quattro minuti sul cronometro di questa ripresa, il più piccolo in campo, il classe 2006, ha riportato il punteggio in parità. Trovato il lancio in profondità, fama vince il contrasto, è calcio a Fagone, respinge, c'è Biondi, il città di Tormina è di nuovo in vantaggio. Ha segnato Danny Biondi, quattro minuti dopo il pari del Mazzarrone, il città di Tormina mette nuovamente il naso avanti. Essenzio quindi in campo per Ferraù nella città di Tormina, fama calcia sul fondo, è stata l'ultima palla giocata in partita da Charlie Famà dentro Santino Biondo. Attenzione al solito taglio, Gomez col pallonetto, si perde alto. C'è il rosso quindi, doppia munizione per mister Costanzo. Si copre un pochino in questo finale Marco Coppa, c'è Daniele Vantano in campo. Tunnel di Lucarelli tra Bellomo e Barbaro, sguscia Lucarelli calcia. Attenzione a Biondi che trova ancora Lucarelli, Fagone con un miracolo. Poi Essenzio alimenta l'azione, c'è ancora Danny Biondi. Fagone era fermo, sfila di un soffio al lato, cartellino rosso per Maximiliano Lucarelli. Lungo recupero, Essenzio prova a calciare direttamente verso la porta. Senza fortuna la soluzione del centrocampista. Stacca Giorgetti, le ha prese tutte in questo recupero, Sascha Giorgetti. Libera poi la difesa del città di Tormina, c'è Diemè ma non c'è più tempo. A rioni tre fischi del signor Caruso, il città di Tormina sbanca il comunale di Mazzarrone per 2 a 1 e si riporta al secondo posto in classifica.